Ciao a tutti, sono Marco Pigellini. Oggi vedremo la seconda fase di installazione di app che si interfacciano con Minecraft Education Edition. Nello specifico installeremo e proveremo ad utilizzare l'app Code Connection, che è quella che ci permette di interfacciare alcuni servizi di coding con Minecraft Education Edition. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è andare su questo sito web, education.minecraft.net slash download, copiate ed incollate il link sul vostro browser preferito, viene aperta questa pagina. La volta scorsa, nel video scorso, abbiamo utilizzato ed installato Minecraft Education Edition. In questo video ci preoccuperemo della seconda app, Code Connection. Installate la versione del vostro sistema operativo e come si installa? Code Connection è il file che avete scaricato. Un semplice doppio clic vi consentirà di seguire l'installazione passo passo guidata. Non vi potete sbagliare. Allora, installata la vostra app. Qui siamo in Minecraft Education Edition, quindi ho già effettuato la fase di login. Questa cosa che vi dico la dovete eseguire soltanto la prima volta. Vi faccio vedere. Allora, abbiamo terminato l'installazione di Code Connection. Digito, premo il pulsante Windows, oppure clicco qui in basso Start e digito Code. Vi propone Windows la corrispondenza migliore. Clicco su Code Connection for Minecraft, vi viene questa schermata con una stringa, slash connect e una serie di numeri. Clicco su questo pulsante, clicco e ho copiato automaticamente questa stringa. Torno su Minecraft, avvio un nuovo mondo, per esempio un blocco di piatto, un mondo complemente piatto. Non c'è niente intorno a me. Premo la lettera T, mi si apre in basso la chat dei comandi. Premo il tasto, contemporaneamente il tasto Control e poi il tasto, tengo premuto Control e V. Incollo il tutto, premo invio, vedete in alto a sinistra l'indicazione che il server Minecraft ha stabilito una connessione con Code Connection. In effetti l'interfaccia Code Connection è cambiata e ci propone tre pulsanti. Questo, vi ripeto, è importante farlo esclusivamente la prima volta. Io adesso chiudo e vi faccio vedere invece la seconda volta cosa potete fare senza abbandonare Minecraft Education Edition. Immaginiamo di avviare il nostro mondo. Avviato, premo nuovamente la lettera T, digito slash code, questa stringa avvierà in automatico la app Code Connection. Vedete qui in basso che è stata avviata e che Minecraft Education Edition si è messo in pausa. Code Connection è pronto per accettare la nostra scelta di quale editor vogliamo utilizzare. Oggi vedremo l'avvio di questi editor e basta. Nei video seguenti poi entreremo nel merito di questi tre servizi. Se clicco adesso su Make Code, la app Code Connection cambia aspetto e presenterà l'interfaccia dell'editor Make Code. Torno indietro perché non ci soffermeremo su questo servizio. Clicco su Scratch, avvia il nostro browser predefinito, in automatico, devo cliccare su I understand e continuo. Verrà mandato in esecuzione il sito web ScratchX eccetera eccetera con i blocchi specifici per interfacciarci con Minecraft Education Edition. Chiudo questo sito web, ritorno su Code Connection, clicco sul terzo servizio che è Tinker e vedrete che viene caricato un altro servizio. Andiamo per esempio in basso, clicco su questo tutorial che ci permetterà di creare facilmente un Rainbow, un arcobaleno. Questo è il codice. Se io vado avanti, provo a mettermi vicino questo cavallo, doppio clic su Start, vedo che il nostro strumento ha creato qualche cosa. Clicco nuovamente su Start, mi muovo un po', questo è l'agent di Scratch, mi muovo un po', clicco ancora e in automatico mi viene creato un nuovo arcobaleno. Questo è il terzo, doppio clic e questo è il quarto arcobaleno. Ok, mi fermo qui. Sì, abbiamo finito questa brevissima presentazione di Code Connection. Vi ricordo, soltanto la prima volta dovete avviare lo strumento dall'app. Diversamente, se volete avviare l'app uscendo da Minecraft Education Edition, l'app vi presenterà questa stringa di connessione. Cliccate, andate su, ritornate su Minecraft, T, CTRL V, incollate il tutto, connessione stabilita e Code Connection è pronto per accettare la vostra scelta. Vi invito a condividere questo link tra i vostri colleghi e iscrivetevi a questo canale YouTube raggiungibili da questo URL breve di www.url.com.minecraftascuola Grazie e ci vediamo al prossimo video. Ciao!